Tre giornate intense di manifestazioni per celebrare la Trieste Opicina Historic, la gara organizzata dal Club dei Venti Allora per rievocare l'appassionante evento che si svolgeva nella nostra città. La Kermessa ha preso il via stamane, con l'inaugurazione della mostra dedicata ai 60 anni di epopea della Monza in salita, aperta presso la Sala Conferenze della Banca di Credito Cooperativo del Casso, nella sua sede di via del Recreatorio 2. In parallelo, dal 15 al 27 settembre, sempre a Opicina, il concorso per la vetrina a tema più bella, mentre dal 25 al 27 si terrà il concorso di videoriprese sul territorio a cura del Club Cinematografico Triestino. La manifestazione entrerà nel vivo a partire da venerdì 25, con l'arrivo e l'iscrizione dei concorrenti nel punto allestito presso la centrale idrodinamica in Porto Vecchio. Dalle 16 esposizione al pubblico dei veicoli, arricchita dalla presenza di alcuni autobus storici già in servizio a Trieste e di motociclette storiche da gara, mentre l'apertura ufficiale si terrà col taglio simbolico del nastro, che è prevista alle ore 17.45. Alle 18 la prima prova sportiva, il prologo cronometrato con classifica autonoma. Sabato 26, Opicina, dalle ore 13 l'extempore di pittura, mentre alle ore 16 verrà inaugurata la mostra, a cura del Club dei 20 all'ora, di autostoriche anteguerra. Le gare competitive prenderanno via sempre dalla centrale idrodinamica alle ore 10, con prove cronometrate sul carso triestino, goriziano e sloveno. Il momento clou della manifestazione si svolgerà domenica 27, quando alle 9.30 del mattino è prevista la partenza dalla centrale idrodinamica della seconda tappa che prevede una sosta al Museo Ferroviario di Campomazio e poi prove cronometrate sul carso. Dopo un passaggio al Monte d'Oro a Free Time, l'arrivo delle vetture nel centro di Trieste, in Piazza Verdi, è prevista partire dalle ore 12.30, ovvero avrà luogo la premiazione. Da evidenziare che sia sabato che domenica, grazie alla Trieste Trasporti, sarà possibile viaggiare a bordo della vettura storica del tram di Opicina, mentre tutti gli esercizi pubblici aderenti al consorzio insieme a Opicina proporranno a ciascuno una specialità per favorire la conoscenza dei prodotti tipici del carso. Un evento che spazi in tanti settori di interesse, quindi, pienamente da vivere e da gustare.